Un incendio di modeste dimensioni e dalla dinamica ancora tutta da accertare si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina davanti ad una vetrina della ferramenta gestita dalla famiglia Vitali a Calcinelli in via Flaminia 79. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un angolo di una delle vetrine laterali del negozio, pare da un cumulo di cartacce ed altro materiale depositato lì. Providenziale l'intervento tempestivo dei vicini che viste le modeste dimensioni delle fiamme con un paio di secchiate d'acqua hanno spento il principio d'incendio e chiamato contemporaneamente i titolari e i vigili del fuoco ai quali una volta arrivati sul posto non è rimasto altro che mettere in sicurezza la zona e finire il lavoro dei vicini di casa. Sul posto vista la dinamica dell'incendio è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Fano i quali stanno procedendo alle indagini coordinate dal capitano Alfonso Falcucci per accertare le cause su come e perché si siano sviluppate le fiamme. Nessun danno all'immobile o alla merce all'interno della ferramenta, solo la vetrina interessata ha riportato la rottura da calore del vetro ed il suo annerimento. L'attività commerciale del negozio fortunatamente durante la giornata non ha subito alcuna interruzione.